Ciao ragazzi sono Nelomante e benvenuti in questo nuovo video Siamo qui su GTA 5 Allo finito, oggi sono qui per provvedere questo easter egg Come vedete Su Life Invader Quando c'è Jimmy, cioè siamo tutti a tavola Diciamo, c'è il pc su Life Invader Ora non ho il cecchino Però magari vi posso far vedere meglio con La fotocamera Come che si zoomava? Così Ecco vedete Nico Bellic Questo è l'account di Nico Bellic Probabilmente è un amico di Di Jim E' un po' pixelato ma si vede bene E questa è una foto di Di cosa? Di GTA 4 Questo è un piccolo easter egg che volevo farvi vedere Per a chi piace GTA 4 Beh ragazzi spero che il piccolo video vi sia piaciuto Io vi farò altri easter egg corti Oppure video lunghi con tanti easter egg dentro Noi ci vediamo al prossimo video Sempre qui su Game Legacy Ciao ragazzi